Il Movimento 5 Stelle di Riva ha inviato una nota relativa alla notizia dell'ennesima causa persa da parte del Comune di Riva del Garda contro il bar Moby Dick per la concessione del plateatico. Secondo i consiglieri di opposizione, rileva anche dei particolari inquietanti e dipinge un quadro di estrema gravità. La sentenza infatti recita l'indimostrata sussistenza in atti di ragioni di interesse pubblico, unita alla mancanza di un'adeguata e doverosa ponderazione anche al fine di un bilanciamento delle contrapposte esigenze dei privati rilevano quali elementi significativi rispetto alla correttezza dell'esercizio del potere e dell'amministrazione e alla sua coerenza con i parametri costituzionali di imparzialità e buon andamento. Alla luce di queste parole, scrivono i pentastellati, ci poniamo alla domanda se l'amministrazione comunale usa i due pesi e due misure e agisca politicamente per aiutare o ostacolare i privati a seconda della vicinanza, appartenenza o simpatia. Se così fosse, sarebbe un fatto gravissimo. Il sindaco Mosanner non potrà fare altro che dimettersi. Inoltre, se si guarda da un altro angolo, il comportamento dell'amministrazione in questo caso è ancora più deleterio. Non solo hanno praticato un'arbitrarietà, ma hanno voluto insistere in tribunale anche se erano in evidente torto. Oltretutto, chi pagherà il conto? Noi chiediamo, con un crew del Movimento 5 Stelle, più correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti, compreso quello del Consiglio Comunale, dove spesso accade che venga meno il regolare e l'impito svolgere di una consigliatura democratica. E sulla vicenda del plateatico, di piazza Catena Riva, interviene anche il consigliere provinciale della lista civica trentina Claudio Civettini, che ha scritto un'interrogazione al presidente del Consiglio, Bruno Dorigatti, chiedendo chi pagherà il conto. Civettini, infatti, chiede chi pagherà ora le spese processuali, poiché la disparità è evidente, in quanto un privato cittadino è tenuto a pagarsi le spese di giudizio, mentre il pubblico ricorre alle casse del Comune. Civettini, dunque, si chiede se non sia il caso di segnalare alla Corte dei Conti o alle autorità competenti l'addebito delle spese, laddove vi sia manifesta infondatezza di applicazione di delibere o normative che lederebbero i diritti del cittadino.